Nessuno vuoi del modo da crescere. Gli imprimati si sprofonderanno nella pazzia. Ma noi prospereremo, perché io ho reclamato ogni angolo di questa valle nel nome del padre. Il cibo, le risorse e le persone. Ora partengono al progetto della Deathscape. Deathscape, so che non si verrà dato volontariamente per un appello con la forza. Se provate a lottare, a resistere, verrete firpa di come erbaccia. Il mar, se aprirete il vostro cuore al progetto delle Deathscape, se condividete con noi ciò che avete, vi proteggeremo dalla carattere. Grazie.